Mille chilometri di viaggio è quello che ci aspetta in sella alle turistiche per eccellenza, ovvero la nuovissima BMW K1006 GT che va a sfidare l'ormai collaudata Kawasaki 1400 GTR. Il nostro viaggio si snoderà tra autostrada, strade tutte curve, lungo mare, stretti tornanti, insomma le metteremo alla frusta queste due moto e vedremo se avrà la meglio il potentissimo 6 cilindri della Barrarese oppure l'ottima e collaudata ciclistica della giapponese. Per saperlo lo vedrete su Motociclismo di maggio, la prova comparativa completa con tutti i dettagli e segreti di queste due moto.